Il Paradiso 7, anticipazioni lunedì 13 marzo, Gemma è a crescere il bambino senza aiuto. Al Paradiso delle Signore, lunedì 13 marzo si aprirà una settimana all'insegna delle emozioni e dei colpi di scena, le anticipazioni della puntata spiegano che in primo piano ci sarà ancora la famiglia Colombo alle prese con la gravidanza inaspettata di Gemma Zanatta. Ci sarà spazio anche per Don Saverio che sospetterà che sua nipote abbia ricominciato con il ciclismo. Mentre Umberto proverà a capire i piani di Tancredi parlando con Matilde. Infine, per Vittorio ci sarà una sorpresa da parte di Diletta, mentre Gloria dovrà rimandare ancora il desiderio di stare vicino a Ezio. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 di lunedì 13 marzo raccontano che Umberto, Roberto Farnesi, cercherà di capire la posizione di Tancredi, Flavio Parenti. Sondando il terreno con Matilde, Chiara Baschetti. La donna, però, sembrerà essere ancora molto indecisa sulla direzione da prendere. Da un lato, dopo le incomprensioni con Vittorio vorrebbe appoggiare suo marito. Dall'altro, tuttavia, la signora Frigerio si sentirà in colpa nei confronti di Conti. Nel frattempo Elvira, Clara Danese, si preparerà ad affrontare le lezioni di guida. Sperando di acquisire l'indipendenza che tanto desidera. I sospetti di Don Saverio, Andrea Lolli. Invece, continueranno a crescere riguardo alla nipote Clara, Elvira Camarrone. L'uomo, infatti, temerà che la ragazza abbia ripreso a praticare il ciclismo. La puntata del Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda lunedì 13 marzo vedrà protagonista anche Gemma, Gaia Bavaro, che non vorrà sentire ragioni e rifiuterà categoricamente la soluzione che le hanno proposto Ezio, Massimo Poggio, e Veronica, Valentina Bartolo. La madre della ragazza, infatti, vorrebbe occuparsi con il suo compagno del bambino che nascerà. Evitando a sua figlia una vita da ragazza madre, ma lei non sarà d'accordo. La Venere sembrerà essere prigioniera del suo destino. Ma improvvisamente un'idea geniale sembrerà attraversare la sua mente e Gemma avrà un piano per poter crescere suo figlio anche senza il padre, video. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 di lunedì 13 marzo rivelano che mentre Gemma penserà a una via d'uscita, il destino di Gloria sembrerà ancora una volta segnato dagli eventi. La capocommessa, infatti, si renderà conto che dovrà rinunciare al suo sogno di vivere la storia d'amore con suo marito e sarà molto comprensiva con Ezio. Ma sentirà anche il bisogno di cambiare radicalmente la sua vita. La focussez pe nivel următor, vei zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.